Buona domenica 11 giugno a tutti, sono 10.37 e finalmente arriviamo a parlare di MIB. Mi sono rimesso, come avete visto, a continuare a mettere a posto le cose mentre sto aspettando la risposta da TradingView per il discorso di dati persi e tra l'altro faccio notare che su TradingView, dopo varie ricerche, ho ricontrollato, ho chiesto, non esiste il grafico del future del MIB. È incredibile, lo so, ma è così, per cui dovremmo continuare a ragionare del fatto che questo secondo T settimanale, da questa parte in avanti, è tutto sopra. Ok, non è mai stato violato questo minimo a 26.494, ricontrollate aggiungendo 1.36 e 1.27 rispetto ai 26.000 esatti e tutta questa parte quindi va traslata sopra. Che cosa stiamo facendo da tempo? Stiamo facendo notare che ci sono delle differenze abissali appunto tra MIB e S&P 500 ad esempio. L'S&P 500 è quello che vi dicevo, poteva ancora fare qualsiasi genere di cosa e, da quello che sembra, potrebbe aver chiuso già, anzi sembra, per il metodo abbiamo che su questo massimo può aver chiuso il vecchio annuale inverso e da qui può essere partito un nuovo annuale inverso già completamente vincolato a far salire i prezzi. Per questo motivo, in campana, perché il MIB è in una situazione totalmente differente. Vogliamo rivederlo un attimo insieme? Partendo da questo massimo, massimo assoluto precedente, derivante da questa salita, quanti giorni abbiamo sotto questo massimo? Ne abbiamo 326 precisi, precisi, precisi rispetto ai 336 possibili di durata. Poi, dove c'è questa freccia quindi abbiamo segnato dove può essere finito appunto, dove è finito l'annuale inverso, da qui abbiamo, è partito un ciclo ulteriore, quello che vi dicevo che si chiama raccordo inverso, ovvero finta ad inverso, che invece che, dopo la salita, con un massimo assoluto, farci direttamente scendere per la partenza di un nuovo annuale inverso, che cosa ha deciso di fare? Questa è una partenza A, V invertita, V di Verona, ha deciso di fare finta ribasso con partenza di annuale inverso, poi ritorno verso l'alto, e poi finalmente ci dirà discesa, ok? Quindi W invertita, M, se preferite. Per cui noi stiamo aspettando la parte finale della seconda gamba della M, questa, che, come detto, ci porterà sopra questo massimo a 28.109, e qui ormai fatti i 27.383 più l'1,27 di stacco di dividendi, più l'1,36 di stacco di dividendi, siamo sostanzialmente a pochi tic, una cinquantina di tic, se non mi ricordo male, dal chiudere questo raccordo inverso. E attenzione, attenzione, i raccordi funzionano in maniera leggermente differente rispetto a tutti gli altri cicli, i raccordi sono finte, fatti apposta per fregare le persone, per cui, ricordatevi che non c'è bisogno di tornare qui sopra, non c'è bisogno di tornare ai 28.109, non ce n'è nessun bisogno. In realtà, la cosa che adesso dovrebbe interessarci di più è una, ok? E qual è? E che, aspettate che rimetto solo un attimo a posto il grafico, così, ok, è che questa finta, che è normata sempre, al massimo dura 43 giorni, ok? Anche questa data, anche questi giorni, è cosa dura un mensile inverso normale, ricordiamoci che abbiamo un raccordo, quindi al massimo potremmo provare a salire per altri 4 giorni, perché siamo a 39, fino al 15 di giugno, al massimo, come durata per tentare di ritornare qui sopra, che non è obbligatorio, in ogni caso, ok? Per questo motivo, ricordiamoci che il titolo di questo video sarà massimo 4 giorni, perché al massimo si può provare ancora a salire per 4 giorni, perché? Comunque, anche se non c'è bisogno di tornare qui sopra, mi aspetto almeno un giorno di salita, come minimo, 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 perché non guardo soltanto questo ciclo, ma guardo anche i cicli che lo compongono, per cui, dato che il quarto ti inverso, settimanale inverso, si è chiuso qui a 10 barre, da qui è partito il quinto settimanale inverso, ti inverso, che è arrivato a 5 barre, e un settimanale inverso, quanto può durare come minimo? 6 giorni, quindi almeno mi serve un giorno con candela verde e massimo superiore ai 27.383, per avere la condizione necessaria e sufficiente per chiudere appunto questa finta a ribasso con rialzo, perché se trasliamo tutta questa parte su, come dovremmo, siamo quasi a questa altezza qua, questa parte qua è qui, ok? Mancano, mi sembra appunto, come vi dicevo, 50 punti. A questo punto, come minimo, il nostro team inverso richiede ancora una candela verde con chiusura superiore di questo massimo a 27.383, ecco fatto il titolo di questa analisi, massimo 4 giorni, target 27.384, ok? Basta in realtà che vada a pari come discorso. C'è altro da raccontarsi? Nella realtà dei fatti posso farvi vedere rapidamente appunto il nostro, la nostra centratura a 15 minuti, ok? Questa, di nuovo, ecco perché non faccio trading venerdì, 21 bar, uno dice ok, perfetto, adesso con questa si è vincolata, quindi scendiamo e si risale, per dare fastidio, per chiudere il quinto, ti meno 3 inverso, giornaliero inverso, quindi l'aspettativa per lunedì dovrebbe essere, se questo non sarà un raccordo, ok? Un raccordo di grado t meno 4 tra un t meno 1 e un t meno 1, facciamolo così, così me lo ricordo anche domani che oggi potrebbe essere una giornata particolare, diciamo, eccoci qua, ok? Vediamo se prima torneremo qui sotto ai 20, sotto i 27.094 a pari e poi rimbalzeremo per continuare il nostro viaggio a rialzo oppure rimbalzeremo e basta, quindi questa è l'aspettativa per lunedì. Non avete capito assolutamente nulla di quello che vi ho detto di T-1, T bla 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 eccetera eccetera, basta che andiate sul mio canale, vi facciate un bel corso gratuito fatto da oltre 27.500 persone ma terminato soltanto da 6.500 persone che si chiama Trading Days e che vi può dare un'idea di come funzionino appunto i cicli e come si muovono quindi i mercati. Direi che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida domenica, la mia lo sarà sicuramente perché c'è solo invece che la pioggia, incredibile. Arrivederci! Grazie a tutti!